ma io partirei dall'inter cosa cosa è uscito manfredi è uscito un articolo fantoccio lo vuoi mettere dentro no ci sono delle dichiarazioni scottanti di lautaro martinez che ignora il suo status di calciatore e decide di attaccare un calciatore con uno status molto più alto del suo ma questo questo fa l'autaro diciamola bene manfredi perché l'autaro non ha attaccato nessuno l'autaro si è difeso da un'accusa di costa curta è diverso ha detto che l'autaro non ha fatto gol decisivi in partite decisive e l'autaro ha risposto forse di se scordato il gol nell'euro derby una semifinale di champions league io aggiungerei anche il rigore tirato in finale dei mondiali che ha segnato però monarca perdonami costa curta non ha detto l'autaro non ha mai deciso una partita importante tra l'autaro spesso nelle partite importanti sparisce che lui mi risponde a no non è vero una volta ho segnato cioè io ti dico io ti dico nello stato di finale è come se io dico tu non 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 se io non ci sei fare tanto con le ragazze diciano una volta sono andato con c'è una volta in primis in primis non parliamo di un giocatore a fine carriera parliamo parliamo di un calciatore che nel fulgio della carriera è ancora giovane e che gioca a grandi livelli europei da due tre anni e nelle partite decisive io penso all'ottavo di finale con liverpool il gollo fa lui il semifinale di champions con milan il gollo fa lui nella finale mondiali alle palle di tirare rigore segnarlo quindi fin qui nelle poche partite decisive che ha giocato l'autaro spesso ha deciso nei gironi dove c'è una battaglia ferrea per passare col barcellona chi segna col barcellona segna lautaro quindi secondo me costa curta forse ha dimenticato qualcosa diciamo così 121 partite con ma ha segnato ragazzi sia con con l'argentina con l'argentino non sono l'ho seguito assolutamente gol però nel termine non segna da un po con l'argentino non segna da un po non vuol dire nulla scusate ragazzi un secondo ho preso qualche secondo prima di entrare perché ho visto il monarco detto ma che siamo al circo noi o cv purtroppo purtroppo quando a che fare con orecchiette mannare tipo flavio ogni santi perché parliamo di un tizio che non conosce il calcio e quindi va sul personale perché non argomenti se vuoi andare sul personale non vado mai sul personale che non minacci allora rimaniamo che io parlo sempre circo in senso calcistico non sapete che si danno giocava nella juve da due anni quindi ritirano amica flavio ma so che sei stato alle prese con un calcio te se non ti aprivi la testata giornalistica te col cazzo per i giornalisti mi sembra tu ti sei preso la briga per nostra in italia non puoi diventare giornalista se hai tu una testata quindi ho preso il tesserino altrove se il tesserino scrivendo articoli da pubblicista non hai fatto l'esame o sì certo che ho fatto l'esame fino a un altro ma vado anche un po contro la mia la categoria diventare giornalisti non è proprio difficile cioè nel senso bravo chi è il commesso per riuscire cioè non bisogna capire di calcio alla categoria ovviamente di tutti i giornalisti a me non è non è un così ingrattimento i giornalisti infatti ieri comunque flavio so che alla verità ho preso una marea di insulti oggi clamorosi ma la marea per questo per questo video qua monarca la verità su totti è stato un grandissimo a roma in nazionale è stato un giocatore normalissimo ho capito di flavio però in quegli anni possiamo ma posto no no se posso spiegarla perché oggi ho preso una marea di insomma tipa voluti ce li prendiamo non è un problema l'unica roba che io dico anche o cv ha fatto il real andrea per campanilismo andrea a vedere il real vabbè 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 ma non è qua la verità su totti è stata un grandissimo nicchia però che pezzi di merda mentre ti sto estratto qua infante si è chiedere merda c'è proprio su instagram una roba del genere veramente dai fan insomma gente ragazzi io mi accoglio io ieri ho messo una storia che ero agli uffizi la gente mi ha commentato nei quadri sia un pezzo di merda come comunque ragazzi si può spiegarla c'è lo penso perché penso che totti non è stato un grande nella nazionale così come è stato nella roma zidane rispondi bene che ti fanno la clip allora vai rispondi ai commenti ai commenti dico totti è stato c'è tutti quelli che dicono totti era forte bravo pensa bravi pensate che totti sia stato forte a come nella roma così nazionale zidane è stato fortissimo nei club così con la francia ronaldi fenomeno ha fatto la differenza nei club così col brasile baggio ha trascinato l'italia nel 94 negli anni 90 quando c'era baggio 94 sugli anni 90 è un suo parere scriveteci nei commenti cosa ne pensate ragazzi questa è la risposta di flavio a tutti i romanisti che mi insultano dico proprio voi che dite che totti un campionissimo vi sembra quello che ha fatto il nazionale sia stato da campionissimo ma sono circostanze flavio nel 2006 è arrivato infortunato e mondiali no ragazzi totti io in nazionale me lo ricordo che ha fatto più in più di qualche non solo il cucchiaio che ci ricordiamo con l'olanda diciamo quali hanno nazionale forte la nazionale italiana e storicamente cioè rispetto alle altre nazionali per gli attaccanti è una nazionale difficile cioè se tu guardi i numeri dei capocannonieri delle nazionali brasiliane rispetto a quelli italiani tipo 70 a 30 una cosa del genere l'italiana gg riva che c'ha 35 gol e infatti una cosa lui mi a me mi dona il cuore dare ragione un però devo dargli ragione attenzione un esempio non ho veramente vedono ragione un viola ma lo devo fare ha fatto un esempio lambande ramar baggio ha trascinato l'italia ed è un dato di fatto zidane lo ha fatto con la francia totte effettivamente non ha mai fatto la differenza non ha mai trascinato l'italia a vincere qualcosa il mondiale arrivato nel 2006 è stata una vittoria di gruppo ma totti non ha fatto l'hanno portato andrea andrea se lo dico su 2006 ditemi cinque giocatori che hanno trascinato l'italia mondiale di buffon cannaval ma era rotto totti era rotto ragazzi grosso grosso anche quel mondiale di ragazzo grosso lo metti tutti ragazzi è uno di quelli che ha fatto alzare in piedi il santiago bernabéu per una stessa nessuno giudica del piero e pochi altri io non sto io non sto criticando il calciatore no però c'è anche attraverso noi dico seppure a roma che comunque la roma quegli anni ci ha avuto anche battistuta se ti ricordi così c'era una bella roma secondo me anche in campo europeo ha detto la sua andrea proprio questo perché con la roma è stato un gigante con la nazionale non lo è stato a gusto però però se si prende un problema ha fatto un cazzo a roma che la roma in campo europeo vototti non ha fatto niente adesso come l'interiore alle altre dai no quando ha vinto lo scudetto ragazzi variare una roma che non aveva senso c'è la ca fuma sono arrivati i massimi quarti di finale non è niente anche questi inter qua che tutti dice diciamo le tre più forti d'europa l'anno quell'anno le squadre che vincevano le coppe europea erano quelle italiane il milan ha vinta nel 2007 c'è stata la finale con la juventus e col milan cioè quindi diciamo che le italiane erano guarda secondo me totti lo puoi contestare per il calcio a balotelli lo sputo su bolsa ci sono delle cose che ha fatto un po' secondo me totti secondo me lo puoi contestare non dal punto di vista tecnico ma lo devi secondo me caratterizzare dal punto di vista dell'ambizione sportiva che forse non ha mai avuto perché poi alla fine non ha mai lasciato la roma però ti dite una roba c'è una certa a una certa ha fatto bene perché dite voi ha fatto bene io perché secondo me lui non voleva voleva diventare una leggenda ha detto prova per correre cioè aveva cioè se non lo faceva rimanere non poteva fare secondo me è difficile uguale a dire a paragone di altri che erano come lui no è però guarda che ne aveva l'opportunità secondo me lì è difficile uguale lui poteva scegliere però però ha fatto quella città non c'è la peggio come il pancio esatto ma è tale secondo me ci ha sofferto un botto totti e non è che neanche non poteva aspetta su totti che rimane alla roma applausi scrociato se lui fa una scelta parliamoci la roma non è stata sempre fortissima ma ci sono stati anche anni in cui non era forte eppure lui c'era io non credi tanti secondo me è come picci della fucina di colare io dico otti è talmente è stato talmente un campionissimo che erano visto lo stesso campionissimo con la maglia della roma con la maglia nazionale questo la mia non è una critica è un dato di fatto comunque vederli mello quindi aveva ragione vi ricordo che tipo sei mesi fa io vi dico io vi dico questa cosa non perché so della lazio ma perché questo secondo me è stato proprio il limite di totti perché da laziale io non ho mai avuto paura di totti come giocatore tant'è vero che ha giocato più derby male che derby bene ma dai quanti cosa ha fatto nei derby totti è il giocatore che ha perso più derby nella storia dei derby pur essendo la roma di totti chiaramente più forte della lazio perché tranne negli anni 2000 poi da quando è arrivato lo dito in poi la roma era nettamente però scusa mi ha aperto sia in quello che stai dicendo tu adesso si è miglior marcatore nella storia del derby stanno dicendo in chat e pure quelle che hanno persi di più vabbè ma quelli che ne ha giocati di più lo dico io ti dico che come giocatore come tifoso io ho molta più paura di uno come del vecchio che ce n'ha fatti tanti ce ne ha fatti perdere da perché erano moderni perché aveva la lucidità di uno quel che sono capito ma non lo so ma vabbè però dai ragazzi io credo che stiamo criticando tutti veramente di poter vincere qualcosa ha fatto il calcio a balotelli o sputo a polsen roma sampdoria all'edicato con vucinic cioè tutti episodi poi negativi qual è qual è quella con vucinic quando c'è roma sampdoria che loro perdono c'è che la sampdoria vince lui da quella dove spacca la bandierina no 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 a roma vince 1 a 0 il primo tempo e litigano dietro lo sfogatoio giocatori della roma che vincevano 1 a 0 se avessero vinto la par quella partita avrebbero vinto non erano 1 a 1 1 a 0 ma scusate dove lui fa il gol della madonna e quella dove lui fa sì bravo lui fa un bel gol ma non è questa è il roma sampdoria 25 aprile 2009 ma a memoria lo sai spada vabbè ma tu dai sei ossessionato ci sono sei ossessionato ma ti rendi come no no allora è tipo la befana come tu lo fai scolo tipo capotana no allora non se a voi ronaldo va fatto male perché ha generato una generazione e una mentalità che l'ossessione supera il talento l'ossessione porta a essere così ragazzi occhio lo dico a tutti i giovani che ti ascolta allora invece per invece per sapere chi sei deve sapere da dove proviamo comunque andrei mentre ci stiamo parlando uno mi ha scritto in privato flavio sei un figlio della grandissimo cornuto salutiamo come si chiama come si chiama che lo salutiamo giro fabio 88 sostiene il canale donando e infamando flare l'importante che rimane nel game ovviamente di io stesso ho detto che tutti non è stato un trascinatore della nazionale se tot avesse scelto una squadra di fuori della roma tutti oggi si portava a casa almeno due palloni d'oro secondo me è proprio questo che gli è mancato perché tu devi andare in una squadra dove non sei totti il re di roma diventare una squadra dove sei totti uno dei tanti perché era una parte di ripestato ma capito ma si metteva a piangere nella città c'era non poteva farlo raga totti non poteva farlo per le potenzialità che aveva vabbè uguale totti per le potenzialità che aveva poteva tranquillamente giocare del real madrid tutto avuto un po di paura e c'è stato tanto amore per la roma onestamente l'unica pecca nella sua carriera di essere rimasto troppo attaccato alla roma poteva andare altrove e fare bene sicuramente ma raga ma perché rimanere in una non sono per niente d'accordo però non sono per niente d'accordo ha fatto una grande scelta che vale molto di più di un po però calcisticamente spadoni poteva poteva ricevere di più i mercenari e critichiamo i mercenari e invece questo qua che parliamo di carota tirano dei giocatori nella mia critica su una nazionale che non è andato a roma in aggiornato tra di sarò che non ha giocato che la disse a roma sia gu però se sei da allora che lui aveva contratto più alto pure quando non era più giocatore più forte vabbè ma pensi che a real non è stata una scelta dei soldi non ti preoccupare non ci ha rimesso ma lascia stare i soldi stiamo parlando guarda siccione come ma sei veramente un burino ma perché parlate mercenari uno parla di mercenari sai che c'è per la cosa doveva farlo no ma io non critico la scelta però credo che un giocatore che allora un conto è vestire la maglia della lazio è un conto è vestire la maglia del real madrid io me ne rendo conto se quelli della roma non se ne rendono colpa è colpa loro e qui lì quando ti confronti con i più forti tu riesci a capire anche quelli che sono le qualità all'interno di un gruppo di campioni eh che che c'è che c'ha un giocatore perché non è così semplice parecchi hanno fallito e e da questo punto di vista poi secondo me ti caratterizza anche verso l'estremo un conto è che tu c'hai baggio che ha giocato con la juve col milan con l'inter eccetera eccetera c'è totti che si è confrontato solo con la roma poi sul valore tecnico secondo me totti poteva arrivare a livelli di baggio non so discute come giocatore però non è mai stato non ha mai avuto la possibilità di confrontarsi in uno spogliatoio dopo quando si alzava però possiamo dire ragù perché ha fatto una scelta di vita si è sposato con la roma infatti nessuno la giudica tanto di cappello io non sto dicendo questo è comunque viva la poligamia diamo un bel messaggio ai ragazzi che ci stanno ascoltando e andiamo un attimo sul calcio moderno veramente oggi è stata bella viralizzato su twitter praticamente sono due idee di juve se posso dire che ormai anche twitter manfre è il loro modo di farlo dai mezzo ma ma riesce a zoomarla un attimo manfre si aspetta allora facciamo così vediamoci prima e poi l'antonio conte dove e mi chiamo motta dove no questa potrebbe essere la juve dell'anno prossimo con conte o con tiago motta ok sono due juve diversi questa è quella con conte a oggi quindi c'è 352 donnarumma in porta gatti bremer e calafiori cambiaso meccani giorginio cop miners e gosens vlaovic mamma mia mamma mia mamma mia così la juve spacca tutto cioè non ce n'è proprio no senza non mi tornavo c'è cosa non so che ci farei proprio secondo me te lo danno gratis con zig zag se prendi calafior te lo danno 40 milioni 50 donnarumma a donnarumma secondo me gli scade il contratto se non c'è una spiegazione se volete sapere ragazzi tiago motta nel suo primo incontro che ha avuto con giuntoli qualche mese fa ha chiesto di vendere scese azzò 20 che ci fai con scese c'è come otta carne secchi che già più fattibile secondo me ma la carne sicuramente zaccagni in una juve danilo merca la fiori e cambiaso locatelli e che planturam chiesa cop miner ma questa che è ancora più infattibile qui no questa però questa che ci volta di più il prossimo anno non so se lo sapete nel contratto c'è scritto nel prossimo anno lo deve guadagnare per forza 12 milioni di euro quindi o ridiscutono il contratto o lo vendono o non possono permettersi 12 milioni comunque fare un contratto del genere una cosa fuori dal mondo sembrava in quel momento lì un contratto così lo poteva fare solo una dirigenza scadente e così si è dimostrata perché una dirigenza che ha fatto danni all'infinito e ha fatto un contratto onestamente a come quella blaovic è la stessa dirigenza che ha preso allegri e allora riportato alla juve riempiendolo di soli è sempre la stessa dirigenza è difficile pure da vendere cioè nel senso te lo puoi vendere solo a due tre squadre al mondo ma a parte ciò oggi blaovic purtroppo dico purtroppo non te lo pagano più quando lo ha comprato guarda io non parlo di 12 milioni io penso che oggi il buyer monaco venderebbe 80 90 per lui come tanti altri squadri imprenditi ma no scusa ma flavio ma lui quindi non credo devi da sempre 12 milioni a lui perché lui non guadagna 12 lui oggi non guadagna lui guadagna 10 solo per il contratto sì ho capito però non penso che sia scemo lui o chi gli sta intorno no lui c'ha 12 per due anni credo no il prossimo allora il primo il contratto è il primo anno prendi 8 il secondo prendi 10 il terzo e c'ha cinque anni quindi c'ha tre anni a 12 questo non lo so però il prossimo non va giù di certo e come dice 36 quindi che dirige al minimo 12 minimo oppure gliene dai 10 per cinque anni ma no ma prima non gli conviene perché la juve che lui fa pregio lui c'ha 12 per 12 sono 36 per arrivare a 50 come deciso su 14 in due anni sono sette io frega vista la dirigenza della juve la società la juve cercherà di monetizzare mi sa tanto che proprio blog ci sarà il partente anche per un semplice motivo per non dargli tutti questi soldi del contratto io abbasserà di molto il tetto in gaggi e non penso che farà pazzia per blog ci anche con onestamente anche perché lo vici a parte che ha fatto uno sprint nel mese di gennaio unico poi si è ancora una volta fermato dimostrando che non si è preso mai lo so è la verità però dietro solo lautaro bg lo so però dico però vi dico una cosa nei momenti difficoltà ci vuole sempre un giocatore che si mette sulle spalle le grandi squadre purtroppo blog ci con lo stesso chiesa non hanno le capacità di essere lì sono d'accordo bg chiesa chiesa t'accompagno vlavic è un grande grande leader anche solo che la juve ragazzi allegri purtroppo ma io spero di darti ragione allora il prossimo anno chiesa sono d'accordo con te chiesa è molto più timido non è un leader vlavic è un animale da gara eh ma lo vedo ma guarda vlavic si è notato che un animale da gara anche dall'espulsione che ha preso l'ultima partita ma se vendete vlavic ma che 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 senso c'ha io credo che la juve debba ripartita dei giocatori no in questo momento del panorama mondiale i centravanti su merce rara la juve c'è la uno che è forte o vende e se tiene magari chiesa che ce ne sta onestamente chiesa non fa più la differenza come prima è un grande giocatore potrebbe ritornare però è un punto interrogativo cioè io ripartita qualcuno riparto dal centravanti dicendo di chiese chiese questo non può tornare ma quello che vi sto dicendo non è che io voglio vendere vlavic dico quello che la società ma gli altri errori saprò di in altre cose da juventus appunto io ti dico secondo me la juve cercherà di prendere ma guarda il problema parte tutto già dallo scorso anno quando giunto l'ha detto chiese vlavic non sono sul mercato ma se arrivasse l'offerta giusta ne possiamo parlare da quella frase io ovviamente mi viene da pensare che la juve vuole monetizzare tranne che la juve fa l'altra pazzia per monetizzare mette sul mercato lo stesso bremer ragazzi la juve quest'anno metterà qualcuno sul mercato c'è più senso mette bremere perché il difensore lo trovi il centravanti ci stanno pochi è giunto lì abbiamo ormai è noto giuntoli e pazzo vuole prendere a tutti i costi coppominer ma a tutti i costi l' Escape l'Anto